Eccoci qui con Bullari, oggi a 12 di una tripletta in questa bellissima gara, raccontaci un attimo come è andata. Abbiamo cominciato non con una buona mentalità, siamo entrate in campo spente, però dopo il loro primo gol ci siamo impegnati, ci abbiamo messo tutto il cuore e abbiamo vinto una partita importantissima, perché domenica andremo a giocare contro la Dispoli, la prima in classifica, e portando a casa questo risultato andiamo lì convinte di potercela fare perché non danno niente in più di noi. Senti, cosa è mancato magari in sua gara e cosa avete ritrovato nella ripresa? La grinta, siamo entrati durante il riscaldamento, non stavamo concentrati, quindi forse un po' il tempo, il campo, la palla schizzava molto male e quindi ci ha messo molto in difficoltà, però da come si è visto ci siamo ripresi alla grande. Anche se siamo a inizio stagione ti faccio una domanda un po' così, qual è l'obiettivo che vi siete prefissati? Di andare in Serie C. Ah, quindi già lo sai, perfetto. Senti, ti ripetta, a chi dedici questi gol? Beh, uno al mister Isopi, che crede in me, mi ha portato nella sua squadra e ha ricreduto in me, con tanta humiltà sono ritornata a giocare in una squadra d'eccellenza, e gli altri due collo è la mia famiglia, c'era mio fratello che dopo tanti anni è venuto a vedermi in una partita e i due collo è ritornata a lui. Quindi serata perfetta, senti, ancora brava e in bocca al buco. Grazie. Grazie.